Burloni, oggi io e Bella Faccia siamo chiusi in delle bottigliette di vetro Non so se vi ricordate, ma questa mappa l'avevo fatta anche insieme a Stavefere, ma l'hanno aggiornata Ed è tipo super bellissima, Bella Faccia, sei pronto? Sooo, la prontissima! Però dobbiamo fare una cosa, guardami, guardami Ok Allora, io voglio, mi piace questa volta Per il secondo episodio Per il secondo episodio, io ve la butto lì 40.000 No, vabbè, siamo più bassi 20.000 per il prossimo episodio 39.000 Proviamoci ragazzi, anche Kendal chiede 40.000 Mi piace, vabbè, iniziamo a prendere un po' di legnetto Sento già tipo dei super Ragni, schifosi, quindi adesso vado subito a uccidere Non spedono l'ora di scudellarci È in spagnolo, comensando de comesso No, ma io già non so l'inglese Un buon proposito Marci è un buon proposito per imparare una lingua insieme Cambiamo lingua, mettiamo la lingua portoghese Però, aspetta, aspetta Però mi fa vedere in italiano i blocchi Quindi ti chiederò sempre come si chiamano in italiano Ok, no, io ce l'ho in inglese Facciamo così Se il video raggiunge veramente 40.000 mi piace Facciamo un episodio tutto in portoghese Vai, si sto Io li sento a destra, non li sento a sinistra Li sento troppo vicini ma è tutto buio Quasi quasi attivo la visione notturna Nooo, non si attiva la visione notturna Non si può Ragazzi, bella faccia non vuole farmi attivare la visione notturna Adesso, adesso Adesso Ci passiamo delle torse, dai Oh, è qua, 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 è qua dentro Ho trovato? Sì No, 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 no Non ho detto Stato arrivato, stato arrivato Fagli usci... Accendere tutti Eh, stanno salendo Stato salendo anche se devo c'è la spada la faccia di cobleson la faccio ci sono arrivare del ragno bravissimo uccidili tutti serve del carbone come far così mettiamo questa torcia esattamente dentro o arrivo salve cido non uccidono uccidono ma se uno spoiler così se c'è andato mi stai uccidendo no 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 porca miseria di qui a mezzo cuore ci servirebbe un po di luce qua luce grazie mille su tutti qua guarda uccidili uccidili marci hai messo cuore veramente a mezzo cuore mezzo cuore ma gli ucciderò nostra però per te no si va il cibo rompo lo spawner ma è vero vai velocevano per lo scuola rotto attimo sono stupidi i ragni comunque ok vai uccidi si con mezzo cuore prendi la prendi la prendi l'anno non voglio mangiarla abbiamo tutto mamma mia quanta roba c'è sono altri ragni bene tutto 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 qua cosa c'è me l'adoro ferro sì 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 guarda c'è un po di cibo c'è un po la carne scritta ci sono le tue amate capene qua mamma mia bella faccia ma si può che il primo dungeon è già tutto devastantissimamente metti devastante e vabbè si deve cominciare col botto tu cosa credi che non è che c'è qualche tipo cesta nascosta qualche parte ma se andiamo nel nether com'è direttamente bottiglia secondo me sarà tipo custom lo sai c'era scritto che era c'era ah ma dobbiamo bridarli però ok buono non ha molto senso come andare a sto punto dentro il villaggio sì infatti ma quello cos'è ah no una bottiglia che sta perdendo la sabbia c'è la bello ma è bello guarda che questa mappa non era così bella no molto bella vai vai andiamo nel villaggio che l'azzo sarà un sacco di cose io prendo ancora tutto il legno che c'è qui dentro io ci facciamo la casa direttamente dove c'è il villaggio cosa ne dici sì sì ci può stare non mi piace tantissimo rubiamo le case villas per adesso si dice che la cosa migliore comincia ad andare verso la prossima bottiglia no no cosa ho fatto cos'è no no non sono morto aspetta aspetta ho usato un po troppi blu tranquillo tranquillo ma si cosa fai stai facendo sono paxo no aspetta dobbiamo dire marci a chi che sta facendo a chi secondo me stai parlando un mezzo turco mezzo arabo mezzo spagnolo e portoghese mi sa di sì io sto morendo di fame so solo questo anch'io porca miseria oh mi mancano blocchi se del grano c'è io c'è io c'è io c'è io c'è io ancora 3 a tutti villager là dentro stiamo per arrivare e vi stiamo per sfondare tutto arriviamo guarda quante palle di fieno ci sono una marea marea quelle pane gratis no dobbiamo ripiantarlo dopo hai ragione moriamo diciamo che adesso magari un guarda proprio ma ne prendo proprio due terra per farmi un po di pane quella c'è anche un golem e mezzo ucciso lo uccidiamo pare marmellata c'è una spugna qua aspetta aspetta il golem è una bella farm di ferro non farlo non farlo ma devi solo stare tre ma altri blocchi più in alto a armarsi attento marci attento tranquillo io faccio le speed run grazie per il ferro grazie mille la te l'ho preso io c'è anche un lupo qua lo prendiamo io ciò le ho aspetta prendiamolo dov'è dov'è che il lupetto cagnolino lupetto dove sei lì prendi prendi lupetto ma qua dentro ci sono carote uno si è già amico nostro grande come lo chiamiamo lo chiamiamo lo scelgono nei commenti lo scelgono nei commenti lo scelgono loro lo scelgono guarda la marci c'è una piramide non si vedeva da la andiamo voi andiamo diciamo così infatti aspettiamo un attimo facciamo la casa tieni qui tieni qui grazie pianto un po di semi eh sì ma la vuoi far davvero qui la casa non lo so dove vuoi tenere la nostra vecchia base forse però nella vecchia base è più bella dai più significativo dai va bene si sta allora spacchiamo tutto qua no marci no no marci io te l'avevo detto io te l'avevo detto eh non sono salito ho sbagliato guarda qua cosa c'è sono dei villager incatenati oh cosa c'è cosa c'è oh mio dio cosa c'è ma non mi fa clicca devi aspettare vai vai clicca nether po no perché ci porta al portale del nether anche nel land c'è vabbè ma e dobbiamo far tutto è bella faccia ci tocca ci tocca si tocca a finire questa mappa ci sono dei lì ci sono degli obiettivi presi gli ho presi ok non la facciamo una cosa dormiamo qui un attimino ok rendo un bel po di di legno perché il legno ci serve un sacco e andiamo a farcela a casa dall'altra va benissimo prendo tutto anch'io ma non è un sacco di legno alla bella faccia io la sto combinando guarda in alto guarda vabbè vai a rubare tutto voglio vedere se c'è qualcosa qua dentro chiamo dei ladrucoli vedi che c'è la luce lo sapevo io cosa c'è se non la casa lì dentro no ci sono solo delle torce non c'è niente dai ma come veramente non c'è niente no dai non è possibile ma non è possibile san fregato così no non c'è niente davvero no è impossibile ma io lo smantello un po questo tavo perché mi sarebbe per farla casa legno sinceramente non so se tu sei d'accordo no no in effetti si si prendi prendi però è strano c'erano delle torce e non c'era nient'altro ma le torce pure ce ne prendo ma infatti non c'è neanche il carbone se ci pensi in giro è vero hai ragione forse dobbiamo scavare e ammazza stregano porca miseria ma esplodi creeper no non fare no marci me la faccia ti vedo che stai facendo danni cosa stai combinando un disastro marci c'è un altro creeper aspetta arrivo si è spaccato un pezzo di bottiglia no no come si è spaccato ah tu l'hai spaccato no me la faccia cosa si spacca tutto si sta spaccando assolutamente io voglio prendere no 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 sono qua no 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 sei fuori di testo marci è vero la porta marci no il cane è morto marci vieni qui dentro no vabbè ragazzi ma che cavolo no bella faccia secondo me dobbiamo dormire non so cosa me lo dice voglio la mia roba dammi la mia roba e poi tu sei cascata su di sotto no la mia roba ma tu sei qualsiasi roba no bella faccia marci era lì e cosa ti devo dire dov'è la mia roba perché dimmi che hai preso al bel ferro l'abbiamo salvato allora io non ho nulla delle sue cose ragazzi è finita è finita del tutto tutto il legno preso è andato al bar no veramente tutto il legno non c'è più niente niente guarda io ho rubato due letti adesso marci c'era l'apocalisse io sto tornando te lo dico io il mio cane può tornare con me per favore perché si chiama puntino il piccane no 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 ti prego dormiamo in questo esatto momento che io per mamma me sto cadendo vieni 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 allora allora oggi dobbiamo fare almeno una ca... oh guarda cosa ho salvato il legno la cosa più importante guarda io so un alambicco e un forno fusorio grazie la civo blast furniss che però va bene ma do te per me no 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 tutto ti ammazza punto marci butto putta basta aiuto no no tranquillo punto e tranquillo adesso Tranquillo dai facciamo questa casa la facciamo quando è l'angolino che dici ne facciamo una Fare due si parla. No non siamo così ricchi siamo nemici siamo addirittura non siamo così Dai inizia a fare il quadrato ma io qua sto mettendo la terra guarda Si vuole una laurea per mettere la terra Ragazzi mi sto facendo la casa però facciamo una casa bella per favore mettiamo a tipo non abbiamo molti materiali effettivamente Queste survival chi se ne frega della casa bella aspetta la bella contro casa brutta Andiamo a vedere ste mucche va che qua stavo registrando mi interrompo Che salve andiamo Allora o crescono s così in fretta Mucche mucche un uno per uno vi prego no 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 non fare Guarda ci giuro mi fanno paurissimo No no l'altra no marci no marci no marci no qui dove il mio forno fusorio eccolo ma perché siamo tutti punto ste cose al bambino si chiama virgola Virgola no Vabbè teniamo questa casa che meglio finisci la cava da prendere le pecore io mi fido tu sei il miglior costruzione del mondo ok di questa di questa Come la chiamiamo di questa di questa di questa Ti stupirò Con questa casa sarà così orribilmente bella Addirittura orribilmente beh signori pecore mi raccomando non morì non moriamo Questa casa è stupenda facciamo così Adesso ti do qualche minuto la finisci e vediamo a fine del video com'è venuta ok mio caro Allora abbiamo fini c'è realtà ha finito bella faccia perché ha deciso di mettere No no l'hai messa e te quella la cobblestone muschiata l'ha messa a lui no no l'hai messa a te l'hai messa Però si sta bene ma infatti non è bruttissimo non è bruttissimo questa è casa nostra guarda che in realtà con i materiali che avevamo hai fatto un buon lavoro Ah hai visto comunque se voi volete un altro episodio dovete lasciare un mi piace tantissimi commenti con i nomi hai appena tolto marci Ti sei messo marci questo qua è la bella faccia Allora adesso mi metto bella faccia e facciamo l'autofonale Io non sto vicino a quel cane ciao 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 ciao